Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato e sottoposto a sequestro nel quartiere Soccavo del capologo partenopeo uno studio medico abusivo presso il quale un finto dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione. In particolare i finanzieri del secondo nucleo operativo metropolitano hanno sorpreso il sedicente medico che, privo di titolo di studio e della relativa abilitazione, forniva illecitamente le prestazioni. Il denunciato è un 52 anni di Napoli colto sul fatto mentre effettuava una visita ad una paziente. Oltre che per esercizio abusivo della professione medica e violazione delle leggi sanitarie, il falso dentista è stato sanzionato anche per aver violato la normativa anticovid poiché non aveva mai effettuato una sanificazione dei locali. Sequestrato lo studio dentistico, composto da un locale e da un laboratorio odontotecnico, peraltro non sanificati e in precarie condizioni igienico-sanitarie, strumentazione medica di diverso genere, tra cui una poltrona da lavoro, attrezzature e materiale ad uso odontoiatrico e decine di fiali di anestetici. La sua posizione ora al vaglio delle fiamme gialle anche sotto il profilo fiscale, in quanto è soggetto evasore totale non avendo presentato la dichiarazione dei redditi dal 2011.